Musica Uccide la moglie e tenta il suicidio Su Panotv il racconto del figlio Luca Mio padre è un pezzo di pane, ha detto, è stato portato all'esasperazione Furto in un tavacchi di via Flaminia a Fano Rubati grattevinci, sigarette e denaro per un valore di oltre 40.000 euro Questa mattina nella cattedrale di Pesaro Le celebrazioni per la Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei Carabinieri Dal 10 dicembre sarà possibile percorrere la tratta ferroviaria Ravenna-Roma A bordo del Frecciargento Lo annuncia il deputato Antonio Baldetti Mercatini, ambientazioni a tema, spettacoli, laboratori per bambini E prodotti tipici locali Sabato si inaugura è Natale a Monbaroccio Calcio, pallavolo e ginnastica Dopo il TG torna su Panotv Sportissimo Il focus settimanale dello sport del nostro territorio Benvenuti cari telespettatori di Panotv A questo nuovo appuntamento con occhio alla notizia Apriamo il telegiornale con l'omicidio Venuto ieri sera al Poderino di Fano Dove un ex ristoratore noto in città Ha ucciso la moglie per poi tentare di togliersi la vita Oggi Simona Zonghetti ha parlato con uno dei figli della coppia Che le ha raccontato la situazione drammatica In cui era piombata la sua famiglia Sentiamo Mio padre era un pezzo di pane Ed è stato portato all'esasperazione E' iniziato così il racconto di Lucas Fuggiti 48 anni Che ieri sera intorno alle 20 e 30 Ha rinvenuto il corpo senza vita della madre in camera da letto Di fianco al suo, quello del papà Accusato di omicidio La tragedia si è consumata in una villetta di via Montefeltro Al Poderino di Fano Dove l'anziana coppia abitava insieme ai due figli L'allarme è stato lanciato proprio da Luca Il padre Angelo, 70 anni Ex titolare della storica pizzeria Angelo di Rosciano Avrebbe strangolato la moglie Rita Talamelli Di 66 anni Per poi cercare di togliersi la vita Ingerendo psicofarmaci Chiamato al 118 Il medico ha constatato la morte della donna Risalente a qualche ora prima del ritrovamento Il 70 anni invece E' stato portato nel reparto di rianimazione Dell'ospedale Santa Croce Dove rimane piantonato Sul posto Gli agenti del commissariato Diretti da Stefano Seretti Che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso La villetta E' stata sottoposta a sequestro Questo non è un femminicidio Ci ha detto Luca Raggiunto telefonicamente Mia madre aveva gravi problemi psichici E dopo la neurisma cerebrale Che l'aveva colpita E' solo peggiorata Soprattutto in quest'ultimo anno Chiedeva continuamente denaro a mio padre Per comprare dolci Profumi Anche 60 in un mese E creme per il corpo Stava 8-9 ore rinchiusa in bagno Per metterle Credo abbia speso 7.000 euro in due mesi Mio padre Ha proseguito il 48enne Aveva paura di non arrivare A fine mese E soprattutto di non riuscire A pagare le bollette Era caduto in una forte depressione Ed era in cura anche lui La scorsa estate aveva già tentato il suicidio Abbiamo chiesto aiuto a tutti A psicologi Dottori Forze dell'ordine Mio padre non sapeva più come fare E mamma Non si faceva curare Era diventata violenta Alzava le mani Ci tirava qualsiasi oggetto Dai piatti al manico di scopa Per 15 anni Ha proseguito Ho dormito in camera da letto Con la porta chiusa chiave Proprio per paura di essere aggredito Abbiamo fatto anche dei video A testimonianza di ciò che raccontavamo Ma nei documenti Lei risultava capace di intendere volere Addirittura per i picca Ha regato la macchina di mio fratello Ci ha raccontato Luca Che ha aggiunto Non voleva più vedere neanche mia zia Ha pure strappato le sue foto La situazione era drammatica Ma abbiamo fatto di tutto per aiutarli Purtroppo evidentemente Mio padre ieri non ce l'ha più fatta Quanto accaduto a Rita Talamelli Ci lascia sgomenti e senza parole Questo lutto ci tocca e ferisce la comunità E il pensiero del sindaco di Fano Massimo Seri Che in una nota stampa ha aggiunto Una comunità è forte Se sa rispettare il dolore della famiglia Per cui esprimo la vicinanza ai cari Questa tragedia ci porta ad una riflessione A non lasciare da solo Chi si trova a vivere questi drammi Anche quando si rimane nel silenzio Delle proprie mura domestiche Ancora cronaca con un furto messo a segno Nella notte al bar Velox In via Flaminia a Fano Sentiamo allora che cosa è accaduto Nell'intervista realizzata da Stefania Schiaroli Che cosa è successo? Stamattina quando siamo venute ad aprire Abbiamo provato a schiavare l'allarme E ha scattato E niente, quando siamo entrate Ci siamo accorti che era tutto allo sbaraglio Era tutto aperto Quindi c'è stata una rapina Che cosa hanno portato via? Tutto quello che c'era da portare via Grattevinci, sigarette, soldi Ancora non c'è una stima di quanto hanno rubato? No, quello ancora non lo sappiamo Da dove sono entrati? Sono entrati dal terrazzino laterale Avete avuto paura chiaramente stamattina Quando siete entrate? Beh abbastanza Anche perché siamo entrate Abbiamo visto subito l'allarme per terra E tutti i sensori E la porta finestra aperta Quindi un attimo ci siamo spaventate Siamo riuscite subito Le videocamere di sorveglianza ci sono E adesso sono ad analizzare Nel pomeriggio il titolare del tabacchi Ci ha riferito che il bottino si aggira intorno ai 40 e 50 mila euro Proseguiamo con il nostro telegiornale Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale Ha diramato un nuovo messaggio di allertamento di livello giallo Per criticità idraulica e idrogeologica su tutte le marche Sono previste raffiche di vento fino a Burrasca nelle zone 2, 4 e 6 E il mare sarà molto mosso o agitato con possibilità di mareggiate lungo tutto il litorale Invece il limite delle nevicate è previsto a quote attorno ai 1300 metri sull'Appennino Pesarese E attorno ai 1500 metri sui monti Sibilini A Pesaro questa mattina si è svolta la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis La patrona dei Carabinieri Il servizio è di Marco Lonigro Premiera del Carabiniero Si è svolta la Cattedrale di Pesaro La Santa Messa in onore della Virgo Fidelis Patrona dell'Arma dei Carabinieri La Messa è stata celebrata dal Vicario Generale Moderatore di Curia dell'Arcidiocesi di Pesaro Don Marco Di Giorgio alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri Il colonnello Gianluigi Cirtoli Del prefetto Emanuela Saveria Greco E dei vertici provinciali di tutte le forze di polizia Nello stesso giorno l'Arma ha commemorato anche l'82esimo anniversario della battaglia di Culqualber Poiché proprio il 21 novembre del 1941 I militari del primo gruppo mobilitato Carabinieri si sacrificarono a difesa di quel caposaldo Si ricordo del sacrificio che c'è stato di un intero reparto di Carabinieri Zapti e mobilitato Che per tre mesi hanno tenuto testa delle preponderanti forze inglesi Purtroppo con esito in fausto il 21 novembre hanno dovuto cedere le armi Come è stato detto durante la celebrazione è l'impegno preso Quindi il nostro lavoro è che quotidianamente dobbiamo ricordarci di dover assolvere Perché il nostro impegno è questo La Virgo Fidelis ci ricorda l'impegno preso, dice il colonnello Cirtoli Essere un Carabiniere significa impegnarsi, sacrificarsi al tempo stesso Avere la soddisfazione e consapevolezza dell'utilità del lavoro svolto Un significato importante che ricordiamo con piacere anche nel giorno della Virgo Fidelis Siamo tutti presenti stamattina come segnale di ringraziamento e di vicinanza ai Carabinieri All'arma dei Carabinieri perché è sempre molto attenta, molto collaborativa E assicura il controllo e l'ordine del territorio Quindi è un modo per ringraziare tutti i Carabinieri che sono per strada Ma anche un sentimento di ricordo e di vicinanza, di ricordo per le vittime dei Carabinieri E di vicinanza ai familiari Invece giovedì 23 novembre sarà la Compagnia Carabinieri di Fano A celebrare alle ore 11 in Cattedrale la Santa Patrona dell'Arma L'82esimo anniversario della battaglia di Colcabèr e la giornata dell'orfano La cittadinanza è invitata a partecipare Dopo l'ok del Consiglio Comunale di Fano al nuovo piano regolatore generale Il capogruppo della Lega Gianluca Ilari attacca la maggioranza su quello che ha definito il PRG del grande inganno Sentiamo perché Dopo tre sedute fatte e quasi 140 emendamenti il Consiglio Comunale di Fano ha approvato un nuovo PRG Secondo lei però i fatti smentiscono le dichiarazioni e le promesse fatte dal Sindaco in un solo Quali nello specifico? Nello specifico questo piano regolatore doveva essere coraggioso Doveva unire la città pubblica a quella privata Inserendo anche dei neologismi ad esempio come quello del Community Hub Cioè dei luoghi all'interno del quale nella città si potressero trovare Nei singoli quartieri delle zone caratterizzate appunto dalla socialità Nel quale i cittadini potessero riunirsi, trovarsi Tutto molto bello però anche qui ci ritroviamo con dei progetti che rimarranno principalmente sulla carta Perché non è stato fatto uno straccio di progetto tecnico economico Non sappiamo né quanto costano né come si pagheranno Addirittura nel corso di questi 140 emendamenti Ne abbiamo trovati tre che rintroducevano alcuni Community Hub che erano stati addirittura dimenticati Inoltre questo piano regolatore aveva l'ardua volontà di dover ridurre sensibilmente il consumo di suolo Solo che si sono dimenticati di dirci rispetto a cosa si riduceva il consumo di suolo Il 65% di quello che era approvato nel vecchio piano regolatore ce lo ritroviamo nel nuovo E abbiamo visto come sono state inserite circa 10.000 m2 di nuovo commerciale Dove prima c'era verde pubblico o dove prima c'erano aree residenziali Aree residenziali che sono state invece incrementate Perché si pensa che nel prossimo futuro possano arrivare circa 5.700 nuovi abitanti Pari a un 10% in più di consumo del suolo a fronte di questi nuovi cittadini Quindi di fatto di così sconcertante, di così nuovo non c'è nulla in questo piano regolatore Vediamo ad esempio come novità secondo noi negativa è l'inserimento di nuovi vincoli Come quello delle zone A2 Poiché si prevede di inserire lungo quasi tutta la fascia costiera e anche qualche altra zona nei singoli quartieri Una tutela, un vincolo su queste zone A2 Cosa significa? Significa che introducendo una zona vincolata i proprietari delle abitazioni Non potranno così agevolmente come facevano prima ristrutturare la propria abitazione Ma come questi ci sono veramente tanti altri temi che sono emersi durante il dibattito Uno dei quali è il fatto che questa amministrazione oramai sta diventando sempre meno credibile agli occhi della città Pensate agli imprenditori che sono venuti a Fano, che hanno cercato di investire sul nostro territorio Portando innovazione e posti di lavoro Alcuni sono stati trattati con molto sospetto Altri addirittura sono stati forzati a fare causa al Comune Intimando di portare avanti dei progetti che in prima battuta avevano redatto insieme ai tecnici comunali Quello che fa strano anche ricordare è come l'assessore Fanesi Forse in una visione distaccata dalla realtà Dica di aver sistemato dei problemi che arrivano dal piano regolatore Aguzzi Ha detto in conferenza, ha detto in consiglio comunale Come ad esempio i quartieri del Poderino ed altri siano stati snaturati Dai permessi edificatori che sono stati realizzati Beh, si dimentica l'assessore Fanesi che governa 10 anni Sarebbe stato sufficiente portare una variazione dell'NTA Cioè le norme tecniche di attuazione O una piccola variante in consiglio comunale Per evitare tutto questo scempio a detta sua Quindi noi crediamo seriamente che questo piano regolatore sarà un piano molto limitativo E non solo, non è lungimirante E sicuramente dovremo metterci mano una volta arrivati alla guida della città Invece i consiglieri del Movimento 5 Stelle di Fanno Hanno definito il PRG una scatola vuota Si prevedono colate di cemento, hanno dichiarato i consiglieri Infatti sebbene la popolazione fanese tenda a calare E già nel 2011 ci fossero ben 7.400 alloggi vuoti Si mantengono oltre 228.000 metri quadri di residenziale Come se si prevedessero migliaia di abitanti in più fuori da ogni logica Inoltre l'emendamento sull'area ex zuccherificio Con un tratto di penna spazza via il progetto Al quale lavorano danni uffici e consulenti pagati a peso d'oro A completare il quadro hanno giunto i 5 Stelle Le otto medie superfici di vendita Cioè i grandi supermercati che possono arrivare a 3.000 metri quadrati A Gimarra e in via 4 novembre ne vengono previsti addirittura due nuove Che non erano contemplate nel PRG Aguzzi Non saranno lieti di apprenderlo i piccoli commercianti di vicinato già in difficoltà Da freccia bianca a freccia argento Il collegamento ferroviario Ravenna-Roma Che passa anche da Pesaro dal 10 dicembre sarà potenziato Lo annuncia Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d'Italia Novità importanti per il collegamento ferroviario Ravenna-Roma Che dal 10 dicembre sarà potenziato Trenitalia mi ha comunicato come dal 10 dicembre Vi sarà un potenziamento del collegamento ferroviario veloce Dalle Marche verso l'Umbria e la Capitale Infatti il freccia bianca diventerà il freccia argento Con tutti i potenziamenti di servizio da un maggiore comfort delle carrozze A servizi dedicati come il collegamento wifi per usare internet Come degli schermi per avere notizie in tempo reale dei dati di viaggio O l'accesso al portale di bordo per usufruire di servizi informativi e di intrattenimento Questo è comunque un importante gesto di attenzione verso una tratta E verso un collegamento che solamente qualche tempo fa Poteva essere oggetto di soppressione Invece vengono buone notizie Ma per i viaggiatori, per i turisti che dalle Marche devono raggiungere la Capitale O viceversa ci sono altre buone notizie Il raddoppio della parte marchigiana della tratta Orte-Falconara Dopo 40 anni è diventato realtà Sono stati assegnati proprio in questi giorni All'impresa giudicataria i lavori del raddoppio della tratta Genga-Serra-Sanquirico Finanziata con fondi PNRR per oltre 370 milioni di euro Nel prossimo piano degli investimenti sarà finanziata la tratta Serra-Sanquirico-Castelplanio E già in avanzato stato di progettazione anche la tratta dal punto PM228 ad Albacina Finanziata con oltre 130 milioni di cui 35 milioni provenienti dai fondi PNRR Quindi smentiamo anche i profeti di sventura della sinistra che in questi giorni hanno detto come La tratta in questione era stata dimenticata dal governo o addirittura definanziata Abbiamo già giudicato i lavori per il raddoppio della prima tratta Giovedì 23 novembre alle ore 21 nella sala consigliare di San Costanzo Si terrà l'incontro di sensibilizzazione sui temi della protezione civile E dell'impegno nel volontariato organizzato dal gruppo di protezione civile di San Costanzo In collaborazione con il Comune L'iniziativa vuole essere un'occasione per riflettere sui rischi presenti nel nostro territorio E su come affrontare situazioni critiche oggi sempre più frequenti a causa delle mutazioni climatiche All'incontro interverranno i volontari del gruppo di protezione civile guidati dal coordinatore Marco Sonnante E il sindaco Filippo Sorcinelli che al termine della serata consegnerà ai volontari gli attestati di beneverenza della Regione Marche Per i servizi svolti durante l'emergenza del Covid Si è svolta venerdì scorso l'inaugurazione del nuovo marchio del concorso di bellezza nazionale Tutto Fanese ideato da Francesca Cecchini Alla serata c'era per noi Cristiana Guerra Si chiama Splendida d'Italia il primo concorso di bellezza che porterà la città di Fano ad essere valorizzata a livello nazionale Ideatrice del nuovo marchio Made in Fano Francesca Cecchini Impegnata insieme a diversi collaboratori nelle selezioni di modelle per sfilate e nell'organizzazione di eventi in tutta Italia Venerdì sera la presentazione ufficiale del marchio del concorso di bellezza che vedrà protagoniste le ragazze dai 14 ai 28 anni Ad ufficializzare Splendida d'Italia la Fanese Chiara Mancini, testimonial del manifesto A cui sono seguite le dimostrazioni del format del concorso e le sfilate di abbigliamento, cerimonia e abiti da sposa A cui hanno partecipato 22 ragazze di cui 3 provenienti dalla Toscana, 5 piemontesi e 14 tra marchigiane e romagnole Francesca, come è nata l'idea di questo progetto? Io vengo da 10 anni di agente responsabile per Marche Romagna del concorso nazionale La Bella d'Italia E diciamo che nella vita vanno fatti passi avanti, questo è un passo avanti, è abbastanza coraggioso Però viene da lì e dall'amore enorme che ho per le ragazze Una bella promozione per Fano Sì, sicuramente un marchio Made in Fano e Fano girerà su tutta Italia Presenti alla serata anche una rappresentanza della regione Piemonte, Toscana e Val d'Aosta Che contribuiscono a sviluppare l'importante progetto Stasera per lei inizia una nuova avventura? Sì, io ho incominciato 48 anni fa come subagente di Miss Italia, ho continuato in questo settore Poi sono approdata a un altro concorso che non nomino per 20 anni Che c'era anche la signora Francesca e adesso incominciamo una nuova avventura Non sia lei e la gente della Val d'Aosta, che programmi avete? Adesso inizieremo il concorso al 17 di dicembre, l'inaugurazione in un bellissimo centro E poi tutto l'anno faremo poi sia per il periodo invernale e quello estimo Che emozioni trova stasera? Tanta emozione, poi comunque è un progetto che ci crediamo tanto La Splendida d'Italia in realtà non nasce proprio stasera Nasce l'amicizia che abbiamo appunto legato con Francesca in un altro concorso E quindi è tanta l'emozione comunque di partire e partire con un grande progetto Perché la Splendida d'Italia non si ferma solo alla bellezza ma c'è molto di più per le nostre ragazze Quindi siamo qua a prepararle e a spianargli una strada veramente molto molto bella, avventurosa Che darà tanta tanta soddisfazione Un concorso a sfondo sociale con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le stesse ragazze Durante l'evento infatti particolare attenzione è stata data alle donne Ed esattamente ad un tema di grande attualità e urgenza La lotta al femminicidio Ospite speciale il musicista fanese Luca Vagnini Che ha fatto ascoltare al pubblico la sigla nazionale che ogni regione utilizzerà per i concorsi Questa canzone è nata dall'idea di Francesca che mi ha chiesto di scrivere l'inno per questa kermesse La canzone si chiama Splendida E ho voluto fare una canzone leggera, anche molto recchiabile Però che abbia all'interno un testo dove il messaggio arrivi chiaro Cioè che la donna è sempre bella, è sempre splendida Ma deve anche riuscire ad esserlo non solamente esteriormente E questo concorso secondo me è un ottimo palcoscenico per dimostrarlo E questo sabato si inaugura è Natale a Monbaroccio L'evento arrivato alla ventiquattresima edizione rientra nella rete del Natale che non ti aspetti Curata dall'unione delle proloco di Pesaro e Urbino Esther Musco Monbaroccio si prepara a vivere le magiche atmosfere natalizie per la sua ventiquattresima edizione Il borgo si vestirà a festa a partire dal 25 novembre, dalle ore 17 E per ben sette giorni vivrà ricchi appuntamenti con mercatini di Natale Ambientazioni a tema, spettacoli e musica dal vivo Laboratori per bambini e momenti culinari tipici e locali Un lavoro di sinergia e armonia come sottolinea il neopresidente della proloco di Monbaroccio Abbiamo creato un gruppo che potrà dare, mi auguro, degli ottimi risultati Non solo per questo evento che ormai è collaudato negli anni Ma anche per tutta una serie di iniziative che già stiamo un po' mettendo in cantiere Natale a Monbaroccio rientra nella rete del progetto degli itinerari di bellezza con Conf Commercio Assolutamente sì Il fatto di mettere in rete tutte queste iniziative credo che sia un'arma vincente per tutto il territorio È brutto pensare a singoli eventi come Candelara, Monbaroccio, tutta una serie di iniziative Il fatto di poter mettere in rete, in comunicazione, divulgare a livello nazionale questi eventi Crea sicuramente la possibilità di dare una maggior risposta e soprattutto interesse a livello nazionale Per chi vuole conoscere e visitare questi nostri territori Se non si fa rete, non si fa squadra, non si lavora insieme ci perdiamo veramente molti pezzi Un percorso quello di Monbaroccio nato un quarto di secolo fa Grazie all'iniziativa parrocchiale nella piccola sede del chiostro del centro storico Mi permetto quest'oggi di ringraziare chi ci ospita Quindi il presidente Varotti insieme al suo staff Perché ci ha dato una locazione che per noi è diventata un punto di riferimento In questo momento è collaudato il percorso di viabilità con spazi dedicati sul Beato Sante In particolar modo per l'area di parcheggio e lungo le strade provinciali SP32 e SP80 Che permettono a Danello di raggiungere con facilità il borgo grazie ai servizi navetta Che vengono messi a disposizione dal comune di Monbaroccio Affinché il parcheggio diventi fruibile e la facilità di raggiungere il borgo sia tale Stand di artigianato ma anche di gastronomia? Eh certo, la gastronomia da noi non mancherà mai perché comunque abbiamo la forza di avere La componente dell'associazione della festa della tagliatella che collabora con la Proloco di Monbaroccio Nonché dai ragazzi di Montegiano della festa della crescita saicocon Quindi l'evento che si traduce nella località di Montegiano Maggio viene riportato all'interno del borgo E quindi tutte le associazioni del territorio, in particolare anche quelle culinarie Diventano parte integrante di queste nostre eccellenze La peculiarità e la specificità dei mercatini di Monbaroccio sono le ambientazioni Che si adeguano allo spazio del borgo nel rispetto del territorio Stanno l'ispirazione qual è stata per la direzione artistica? Allora l'ispirazione sono i villaggi in miniatura della LEMAX Sono all'interno del Palazzo del Monte Quindi lo stesso palazzo naturalmente a voce per tutto il paese E quindi sono questi villaggi in miniatura con carillon, con musiche tipiche di Natale Con vari personaggi La casa dei pinguini e quindi bambini affascinati e entusiasti di questi animali Quindi cerbiatti, volpi, ricci, tutti animali del bosco Il vecchio fornaio degli anni 50 di Monbaroccio Il signor Pipi, il soprannome detto proprio Quindi mi piaceva proprio recuperare questi spazi e queste tradizioni che il borgo non può fare a meno Si riconferma anche quest'anno la grande attrattiva che è la magica nevicata in piazza Barocci Con tre appuntamenti giornalieri alle 16.45, alle 18 e alle 19 Creando un'atmosfera davvero magica che abbraccia tutto il borgo E tra poco dopo il telegiornale andrà in onda una nuova puntata di Sportissimo Sentiamo alcune anticipazioni da Andrea Amaduzzi Andrea Mosconi, ex allenatore dell'Alma Juventus Fano Ospite d'apertura della puntata di stasera di Sportissimo E la settimanale che Fano TV Dedica allo sport del territorio Con lui ci occuperemo ovviamente del momento dell'Alma Juventus Fano Dopo il pareggio sul campo dell'Atletico Ascoli E più in generale del campionato di Serie D Poi pallavolo con la Smart System che continua a vincere in casa in maniera larga Anche contro Lago Negro Secondo posto in classifica per la formazione di Paolo Tofoli Sempre per il volley ospiteremo Massimo Scarpetti Presidente dell'APAV Calcinelli Lucrezia Con l'allenatore della squadra di Serie D femminile Morris Meloni Che capeggia la graduatoria Infine spazio di nuovo alla ginnastica Per illustrare l'attività svolta dall'Olimpia Ginnastica Cucurano Con il dirigente Enrico Nicolelli Noi ci fermiamo qui Adesso ci sono come sempre le previsioni del tempo E poi come annunciato una nuova puntata di Sportissimo Grazie per essere stati con noi E buon proseguimento di serata sul canale 19 Grazie per aver guardato il video